Manu Di Chiro, dunque tre punti veramente importanti, anche perché sono arrivati in rimonta. Nel secondo tempo la Cleterina sembrava aver preso il sopravvento, però poi dall'espulsione siete stati bravi a capitalizzare al massimo tutte le occasioni. Sì, questo ha detto il campo. Avevo detto durante la settimana ai ragazzi che nel giorno di ritorno queste sono le partite dove devi prendere i punti. Al di là del gioco bisogna essere anche brutti ma vincenti. Ci abbiamo messo tanto impegno, abbiamo comunque sbagliato tanto, siamo andati in svantaggio all'inizio del secondo tempo. Insomma, mentalmente è stato un brutto colpo. Per fortuna c'è stato l'episodio della loro espulsione che è rimarcato che ha indirizzato la partita verso di noi. Siamo stati bravi a non disunirci e a continuare a giocare. Scusate, abbiamo trovato i gol che ci hanno portato fino al novantesimo per far raggiungere i tre punti. È chiaro che mancano sei giornate alla fine del campionato. La prossima sarà in trasferta contro i Ripalimosani, ma soprattutto qui a Baranello avete la possibilità di costruire e certificare la salvezza. Sì, in casa dobbiamo fare di più. Non è stato un cammino esaltante tra le mura amiche. Potevamo fare sicuramente di più durante tutto l'arco del campionato. Abbiamo lo sconto diretto con l'Agnone che tra due settimane potrebbe dire tanto. Ma intanto andiamo sabato a Ripa per prendere punti perché dietro faranno di tutto per agganciarci. Sappiamo che il calcio fino a quando non metti al sicuro il risultato è imprevedibile, può succedere di tutto. Poi è sempre brutto giocare con la spada di Damocle sulla testa. Vedo un po' di tensione nei ragazzi meno esperti. Il compito nostro ovviamente è quello di tranquillizzarli, però poi nel campo la palla scotta. Dobbiamo continuare così. Non è chiuso niente e ci prepariamo al meglio durante quella settimana. Di certo questa vittoria vi pone nella condizione di essere padroni del vostro destino e già è un qualcosa in questo momento. Assolutamente. Ci dà tanto, ci dà fiducia anche perché abbiamo avuto un periodo dove ci siamo allenati in pochi. Adesso sono un paio di settimane che siamo tornati a pieno regime. Manca ancora qualcuno, ma una serie di infortuni incredibili quest'anno. Sinceramente non mi era mai capitata un'annata così da quel punto di vista, però diciamo che con qualche scelta di più in panchina è più facile mettere la squadra in campo.